Ciao a tutti, a tutti gli amici pugliesi, dalla stanza dove ho la mia bicicletta che ha vinto il campionato del mondo, la maglia, prima maglia usata con l'Alfa Lume, volevo salutarvi e volevo incoraggiarvi ad andare avanti sul progetto del turismo in bicicletta in Puglia perché ho una ragione che ho nel cuore, è emozionante pedalare in mezzo agli ulivi, fermarsi magari a mangiare le bombette a metà dell'allenamento, io l'ho fatto e vi assicuro che è stato uno dei giorni che non dimenticherò, in mezzo ai trulli, sono delle emozioni veramente fantastiche e quindi in bocca al lupo e grande coraggio. Ciao a tutti!